Abbiamo fatto schifo, proprio schifo. Siamo solamente quando prendiamo il gol. Come mai? Che cosa è successo? Niente, è successo che la squadra ha iniziato a giocare nel momento in cui abbiamo preso gol. Questo non è tollerabile, basta. Sei d'accordo con le scelte di Zaffaroni? Ma diciamo di sì, il problema non sono state le scelte di Zaffaroni, è stato che abbiamo iniziato a giocare solamente nel momento in cui abbiamo preso gol. Non va bene così. Abbiamo fatto? Schifo, dopo schifo. Una cosa sola deve fare il prestigio, ma andare via l'allenatore, che ha di pallone, non ne capisce proprio nulla e basta. Quindi la colpa è tutta dell'allenatore? Sì, l'allenatore è proprio ridicolo. La squadra in dieci ancora giochiamo a tre, giochiamo. Se hai i giocatori puoi giocare a tre, altrimenti. Buonasera a tutti, sempre forza lupo. Squadra discontinua e senza palle. Scusate. Senza palle? Sì. Come ha giocato caso oggi? Guarda, ha dato il meglio di sé, però manca qualcosa a questa squadra. Manca qualcosa perché è troppo, troppo discontinua. Siamo un po' scontenti. I ragazzi devono sudare la maglia. Secondo te cosa manca, appunto? Manca un po' di testa, un po' di grinta, un po' di cosentinità. Forza lupi sempre. Qual è questa cosentinità? Quella che abbiamo noi dentro, noi tifosi. Posso chiedere al mister una cosa, come mai ha cacciato a Gori, invece di togliere un difensore, ha cacciato un attaccante? Tanto la stavi perdendo, mister. Eri sotto di un gol. E riprova. Non che, voglio dire un'altra cosa, invece di tenerli sotto la pioggia a riscaldarsi per 15 minuti, gli altri ragazzi, falle entrare prima. Grazie, mister. Come è andata la partita? Cos'è succede? Bene? Ho visto a mio nipote che era uno di migliore anche se ha giocato. Chi è su riposo? Florenzi. Ah, lei è lo zio di Florenzi. Siamo arrivati dalla Sardegna per vederlo, ha giocato bene, mi dispiace per il risultato. Però siete contenti per lui? Siamo contenti per lui e meno contenti per il risultato. Speriamo che più avanti andrà meglio. No, mi voglio bene, ma che è successo? Il signore non è ancora male. Ho iniziato a giocare dopo che abbiamo preso gol e non può succedere. E' d'accordo col rientro di Bulta? Secondo me ha 20 minuti sulle gambe, non doveva giocare dall'inizio. E invece con i cambi che sono venuti in un secondo luogo? Per la prima volta che dico all'allenatore, soprattutto gli ultimi cambi non mi sono piaciuti. Cioè tre difensori quando sei uno avanti, un uomo in più e stai perdendo non servono. C'è qualcosa che non va? No, vabbè, penso che comunque ci salviamo, dai. Abbiamo perso quella squadra peggiore di noi, questo fa rabbia. Lei è positivo, cattiva giornata, ma lei è positivo. Sì, positivo sempre, dai. È stata una partita abbastanza brutta perché abbiamo preso un gol da Fessi, da Giuseppe Rossi che con tutto il rispetto, fortissimo, però non ti puoi far segnare un gol centrale. Così, e poi abbiamo sbagliato dei gol troppo, troppo facili da sbagliare. Di che è stata la colpa? La colpa è dell'allenatore che invece di mettere un attaccante in più caccia a cori, caccia a cori e mi indagna c'è un attaccante che... Beh, non mi fa parlare. La partita parla il risultato. Purtroppo siamo stati sfortunati, penso che il Cosenza meritava almeno il pareggio e la spalla assolutamente, secondo me, non doveva vincere. Come ha giocato la squadra avversaria? Ma ha fatto la sua partita, però il Cosenza che meritava sicuramente di più. Peccato perché non c'è stata molta pressione, soprattutto in avanti. Peccato. Lei è d'accordo con le scelte di Zaffaroni sui cambi? Ma, diciamo che a quel punto doveva mettere qualche attaccante in più, solo che il campo ovviamente era quello che era e non permetteva il gioco da un punto di vista tecnico, però la situazione è stata... Peccato, siamo stati sfortunati, secondo me. Forse siamo un po' delusi. Sì, la rabbia è tanta perché secondo me, ripeto, la spalla non meritava assolutamente di vincere. Hanno giocato male? Sì, sì, malissimo. La colpa di chi è stata? È, diciamo, dell'allenatore. Quindi è Zaffaroni che non va bene, bisogna cambiare. Non lo so che si deve fare. Questo è un... Deve prendere il precedente qualche provvedimento, o il direttore sportivo. La vedo veramente deluso. E lo so, sono stato sotto l'acqua. Sotto l'acqua e ha pure pe... Con l'ombrello, però sotto l'acqua. Quindi ha preso acqua per nulla. Per nulla. Dobbiamo fare appunto un ricorso, dobbiamo dire qualcosa. Dobbiamo dire che il direttore sportivo si deve muovere. Perché così non va bene. Non va bene a giocare così. La ringrazio. Per la gente, a stare sotto l'acqua. Non ne vale la pena. Non ne vale la pena, fino a venire allo stagio. Ma è la prima volta che venivo qua a Cosenza. Comunque è una buona partita. Penso che meritavano anche la vittoria, non di perdere. Però è andata così. Cosa è successo? È successo che, secondo me, si chiudono troppo nella loro metà campo e non ci riescono mai a uscire dalla loro metà campo. È d'accordo con le scelte di Zaffaroni? Sì, in parte. In parte perché? In parte perché, secondo me, Florenzi dovrebbe giocare titolare dall'inizio. E lei è parente di Florenzi. Ah, l'ho capito subito! Allora forza Florenzi. Forza Florenzi e forza Cosenza. Forza Cosenza. Deluso, nemmeno un dirimporto. Una delusione unica. E chi è stata la colpa? Non hanno proprio giocato. Zero, zero. La vedo veramente triste oggi. Sì. Secondo lei ci rifaremo? La partita a Parma, diciamo che è stata giocata abbastanza bene. Almeno il pareggio ce lo aspettavamo. Non meritiamo, la nostra tifoseria non merita una squadra del genere. Sotto l'acqua poi oggi. Tutto qua. Specialmente per esempio io e tanti altri che veniamo dalla costa. Lei di dov'è? Di Cittadella. Anch'io so di Belvedere. Sai benissimo il tempo come era oggi. Certo, certo. La nebbia che abbiamo trovato. Al di là della nebbia e il mare, hai visto? Eppure non ne è valsa la pena. Quando, lo sai, almeno io sono 33 anni dall'88 che cerco di non mancare. Quando si può non manco mai, però. Con chi dobbiamo prendercelo secondo lei? Zaffaroni sta sbagliando qualcosa? Qualcuno, per forza qualcuno che cambia la squadra, non c'è gioco, dai. Non farmi dire cose che non voglio dire. Come si chiama il signore? Vigorito. Vigorito, come andate la partita? Malissimo, malissimo. Sono giornate così, capitano, sono storte proprio. Vigorito come il nostro portiere? Sì, il mio nipote. Ah, lei è lo zio. Siamo del lago negro noi. Viglia di parte. Sì, sì, sicuramente. Però è così, quando non va, non va. Purtroppo è lo sport. Miglior e peggior giocatore in campo oggi? No, no, un po' tutta la squadra. Nel secondo tempo sono rimasti un po' negli spogliatoi, sono entrati freddi. Ho visto la spalla più determinata, più vogliosa di tirarla fuori la partita, cosa che non ha fatto il cosento. Vedo un po' bagnati fradici. Avete preso tanta acqua. Sì, molta. E non ne è valsa la pena oggi. Assolutamente no. Cosa è successo? Come ha giocato il Cosenza? Io la partita non l'ho guardata del tutto, sono stato un pochino insieme all'opera. Non tiriamo in porto. Esatto. La partita è passata nell'alorare di rigore, ma non tiriamo in porto. E di chi è? Sotto l'acqua meritiamo un po' di rispetto. Appunto, fatevi sentire, ragazzi, dite qualcosa. Di chi è la colpa? Di Guarascio. Di Guarascio. Quindi Guarascio? La fangolo. La fangolo, Guarascio.